Ma va! Quante girate si è di cuore da tutta lì? Ma va! Ma va! Ti tiri via sto coso e vado su! Va bene, questo fa da limite! Ti tira fuori la moto che proviamo! Provati, se ti è vissuto ti paghi dei bife da mangiare! Ti tiri via quel coso qua! Ma che non è la tua moto! Ma non riesci Zampini, quando giri qui, sei già qui con il titolo un baradano, non poteva sbunare la testa! No, tiri via questo! Qua, e ritirai via quelli lì! No, no, no! Ti dove la lasciare Fanti? E' più in su! Ma che cazzo! E' la mica più in su! Con tutti i mezzi! Ma dai, con tutti i mezzi quello si è andato a coprire! Allora! Ma ancora! Bisogna dargli una coltellata per farlo star fermo! Anche! Oh! Fanti il liberato! Esatto! Morsi! 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 Morsi!